Buongiorno Devedo, per qualche giorno la scorsa settimana su Linux abbiamo avuto un kernel satanico, satanista, un kernel 666, sì, perché abbiamo avuto la kernel versione 6.6.6, la patch .6 era stata fatta per la correzione di un driver wireless, insomma, che era stata fatta, poi è rivertata, poi è rivertata di nuovo, insomma, abbiamo avuto per pochi giorni, però, una versione 666 del kernel. kernel Linux, tra l'altro è passata anche così in sordina, senza troppe celebrazioni, è un po' un peccato, è anche durata pochi giorni, perché poi, qualche giorno dopo, appunto, è arrivata la 6.6.7, che in realtà è molto più corposa nel suo changelog. E niente, quindi abbiamo visto passare per qualche giorno, insomma, questa versione diabolica di Linux, è un peccato, che poteva costituire un po' anche un revival, vi ricordate la versione satanic di Ubuntu? Si guardava tipo Ubuntu Satanist o Satanic Edition, qualcosa così, e poteva esserci anche un revival di quella versione, no? Un Linux un po' così, mefistofelico, e invece niente, l'abbiamo vista passare. Ora, la prossima versione satanista di Linux sarà la 66.6, ma ora che uscirà, insomma, penso che, ecco, l'apocalisse avrà già visitato la Terra, e così i diavoli saranno davvero in mezzo a noi, basta dire cazzate. Andiamo con le news di oggi, va. Allora, vi ricordate di tutta la vicenda di Ashicorp e dei suoi prodotti che sono passati a licenza BUSL, quindi una licenza non open source, con conseguente, insomma, arrabbiatura da parte della community di utenti, e poi quel fork di Terraform che ha portato a OpenTofu, insomma, ci sono degli aggiornamenti su questa questione, sulla questione di Ashicorp. Il primo aggiornamento è più importante, e anche non un bel segnale, insomma, per Ashicorp, è che il suo co-founder, e quello il cui nome sta nel nome stesso dell'azienda, cioè Mitchell Hashimoto, signor Hashimoto, insomma, dopo 11 anni, dopo aver fondato Ashicorp, ha lasciato l'azienda, di cui appunto era co-fondatore. In realtà, lui non era più CEO di Ashicorp da un po' di tempo, era stato nel 2016 che aveva, insomma, deciso di lasciare questo ruolo e anche il board per dedicarsi a mansioni più tecniche, e peraltro è stato anche sempre molto apprezzato come, diciamo, come ingegnere, come tecnico Hashimoto, ma adesso ha deciso definitivamente di lasciare l'azienda, che, no, è strano, no, che manterrà un nome che deriva da una persona che non sta più nell'azienda stessa, insomma. E Ashimoto, appunto, ha scritto una lettera sul blog di Ashicorp per spiegare questa decisione, insomma, fare i suoi saluti, eccetera. Quindi, in questa lettera che trovate sul blog di Ashicorp, si intitola Mitchell Reflects as he departs Ashicorp. Lui racconta, insomma, un po' che dopo l'arrivo del suo figlio, del suo primo figlio, ha deciso che era il momento giusto per lasciare, per dedicarsi a nuove sfide al di fuori di Ashicorp e del cloud, degli strumenti di infrastruttura, insomma, e poi rifletta un po' sui momenti significativi che ha vissuto con Ashicorp. Ringrazia tutta la community, i clienti, i partner, insomma, tutti quanti, per, insomma, per i quali è di peso il successo di Ashicorp. Ricorda anche una grandiosa Ashicorp del 2015, la prima Ashicorp nel 2015, con tanto pubblico, tanto entusiasmo, insomma, sono cose che lo hanno un po' segnato e poi fa anche un saluto ai suoi co-founder, quelli con cui ha speso un sacco di tempo per portare Ashicorp dove è oggi. E cosa farà adesso Ashimoto? Non lo sappiamo esattamente, però intanto possiamo andare a vedere che ha aggiornato il suo blog, il suo dev blog, con aggiornamenti su un side project che lui sta curando, si chiama Ghosty, o Ghost TTY, non so bene come pronunciarlo, ma, insomma, è un emulatore di terminale. Non è ancora pubblico, è ancora un progetto privato, però, insomma, se volete seguire un po' cosa sta evolvendo lo sviluppo, lo trovate, appunto, sul dev blog di Ashimoto, www.michelh.com e vedete un po' a che punto sta questo suo progetto. E restando sempre in tema Ashicorp e nel tema dei fork, dei progetti di Ashicorp, vi ricorderete che abbiamo parlato di OpenTofu, il fork di Terraform, dopo che è stato passato la licenza BUSL, assieme agli altri prodotti di Ashicorp, appunto uno di questi prodotti, cioè Volt, ha subito la stessa sorte recentemente. È stato creato un fork di Volt che si chiama OpenBow. Peraltro OpenBow pare avere un sostenitore parecchio importante, che è IBM. Cioè non c'è un annuncio ufficiale di sostegno a OpenBow da parte di IBM, ma si sa che ci sono due engineer di IBM che sono dietro a questa operazione, che adesso è parte di Linux Foundation, anche questo è nel Linux Foundation Edge Umbrella. Volt è praticamente uno standard nel cloud, è un modo per gestire le secret, le password, le API keys, insomma altri tipi di informazioni sensibili che riguardano l'autenticazione, no? E Ashicorp l'ha reso molto interoperabile con Terraform ed è praticamente utilizzato su tutti i principali cloud, da AWS, Google Cloud, Azure, eccetera. È cloud agnostic, quindi è possibile usarlo su più cloud non legati a un singolo. Ed ecco che appunto, leggo dall'articolo di The Newstack, che degli ingegneri di IBM hanno forcato volte, hanno creato OpenBow. Non c'è, ripeto, un supporto ufficiale e adesso OpenBow sta nel sito di Linux Foundation Edge, che comunque non è listato come progetto, ma sta, diciamo, sotto questo ombrello. Gli ingegneri IBM che sono elencati come contatti per questo progetto sono Nathan Phelps e Joe Pearson. OpenBow è stato lanciato come versione open source di Volt alla 1.14, che questo era l'ultimo branch, diciamo, prima del cambiamento di licenza, e quindi l'ultimo che rimane sotto Mozilla Private License. Qualche mese fa avevamo parlato dell'acquisizione di Figma da parte di Adobe, quell'acquisizione da 20 miliardi di dollari, che avrebbe di fatto creato un monopolio nel mercato, perché Adobe e Figma erano, diciamo, i due grossi player. Figma, quello di gran lunga più grosso come fetta di mercato, ma poi anche Adobe con XD, ecco, l'unico competitor degno di nota come posizione di mercato rispetto a Figma. Con l'acquisizione di Figma stesso, Adobe si sarebbe di fatto trovato in una posizione di vantaggio incredibile. Dico, si sarebbe, perché ora è ufficiale che questa acquisizione è stata definitivamente cancellata, bloccata. Perché? Perché i regolatori in UK e in Europa, appunto, in EU, hanno deciso che non va bene. L'antitrust ha fatto un'investigazione, ha messo dei paletti molto forti, insomma, ha chiesto delle grosse rinunce da parte di Adobe a tanti suoi asset per procedere, come unica condizione, insomma, per procedere con questa acquisizione. Adobe ha rigettato queste richieste e quindi, per evitare ulteriori pressioni e che questa investigazione andasse avanti ancora a lungo, c'è in questi ultimi giorni l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le compagnie che l'acquisizione si è fermata definitivamente. E, tra l'altro, come conseguenza della terminazione di questo accordo, Adobe dovrà pagare a Figma un miliardo di dollari, che, insomma, non fanno male. Nonostante questo, comunque, la dichiarazione del CEO di Figma, Dylan Field, è che non è, che questo non è l'outcome, insomma, non è la fine che avevano sperato per questa mossa. Parlando di RISC-V, sapete che mi piace sempre parlare di RISC-V quando vedo notizie che lo riguardano? Ebbene, questo mi piace ancora di più perché riguarda l'Europa. Ed è un computer europeo, un progetto europeo. È il Barcelona Supercomputing Center, BSC, che ha presentato, appunto, un nuovo chip, si chiama Sargantana, ed è la terza generazione dei processori open source che questo centro sta sviluppando dal 2014. È un processore che ha una potenza di calcolo di 1,5 teraflop, ma consuma molto poco, consuma solo 5 watt di energia, quindi è molto efficiente ed è adatto, insomma, per applicazioni nell'intelligenza artificiale, Internet of Things. Sargantana si basa, appunto, sull'architettura RISC-V, un'architettura hardware, abbiamo detto molte volte, un'architettura libera, un'architettura open. È un linguaggio universale che permette a chiunque di crearsi il proprio processore, progettare e produrre i propri chip, senza pagare licenze, senza pagare royalties. Insomma, possiamo un po' vedere come il mondo open source software, mondo Linux, applicato all'hardware, quindi ai processori, insomma. L'abbiamo detto varie volte, è un progetto super interessante, tra l'altro, se vi ricordate, ci sono un po' di fastidi da parte degli Stati Uniti, perché la Cina sta usando architetture RISC-V, appunto perché sono open, per bypassare i blocchi, diciamo, alle esportazioni di chip e di progetti da tecnologia americana a tecnologie cinesi, insomma. Con l'open source la Cina riesce a bypassare questi blocchi. Ma insomma, l'obiettivo di questo progetto, del progetto Sargantana, è proprio quello di dotare anche l'Unione Europea di chip di questa potenza, quindi contribuire, un po' come lo dicono anche loro nel loro comunicato, alla sovranità tecnologica dell'Europa, perché naturalmente non possiamo sempre dipendere soltanto da grandi multinazionali americane o asiatiche, insomma, per i nostri chip, e quindi per garantire anche un pochino di competitività industriale, ecco, in questo mondo. Naturalmente c'è anche una questione di collaborazione, no? Il design open source, appunto, di questi chip permette la collaborazione tra varie agenzie, istituzioni, aziende, insomma, che possono contribuire al miglioramento e all'adattamento di questi chip a vari scenari. E tra l'altro proprio il BSC fa parte di una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo che promuovono l'uso e la diffusione della tecnologia RISC-V. Allora, come ultima news parliamo di Fediverso, ma lo facciamo parlando del lancio di Threads in Europa. Meta, sapete tutti, che ha lanciato il concorrente di Twitter, mettiamola così, si chiama Threads, è stato lanciato in Unione Europea, era già stato lanciato negli Stati Uniti e in altri 100 paesi a luglio del 2023, ma naturalmente il ritardo del lancio in Europa è stato attribuito al Digital Markets Act, no? Al DMA, sapete, che insomma, vuole un po' limitare gli abusi da parte delle big tech e garantire più concorrenze. Insomma, ora gli utenti europei possono andare a creare un proprio profilo su Threads se hanno un account Instagram, ma si può anche navigare su Threads così liberamente, senza creare un account per vedere un po', solo per leggere naturalmente, per vedere un po' com'è, per leggere i post. Threads rimane comunque un prodotto collegato a Instagram, quindi per postare, per creare contenuti, è necessario avere un account Instagram. Ma dicevo di Fediverso perché? Perché i piani di Threads sono quelli di federarsi appunto, cioè di entrare a far parte del Fediverso. Threads supporta ActivityPub e quindi c'è proprio il piano di consentire un'interoperabilità completa tra Threads e tutti gli altri server appunto che supportano ActivityPub, però un piano che procederà a step. Adam Mosseri, che è il capo, insomma, di Instagram, ha spiegato un po' quali sono i piani di Threads appunto per l'integrazione nel Fediverso. Lo leggo da un articolo che trovo su The Verge e dice il team di Threads vuole che l'opzione di seguire un account su Threads da altre piattaforme sia disponibile per tutti gli account pubblici di Threads e non soltanto per i tester che sono selezionati adesso. Al momento, per essere seguiti sul Fediverso, serve un account pubblico e l'utente deve fare opt-in appunto per mostrare i propri post su altri server. quindi è una possibilità che viene fornita agli utenti di Threads ma che non è abilitata di default. Bisogna attivarla. Però è in piano, ecco, una delle opzioni considerate è quella di rendere questa possibilità attiva di default quindi a fare la scelta opposta, cioè l'opt-out, decidere di togliere la visibilità dei propri post sul resto del Fediverso. Inoltre il team di Threads vuole che le reply, quindi le risposte ai messaggi Threads pubblicate via ActivityPub da altri server siano visibili appunto dentro Threads. Nei piani futuri c'è inoltre la possibilità di seguire degli account che non sono Threads dal proprio client Threads e poi la portabilità dell'account e dei follower. Cioè se un utente decide di lasciare Threads e di spostarsi su un altro server del Fediverso come per esempio un server Mastodon, ecco, ci dovrebbe essere la possibilità di portarsi dietro tutti i propri followers. Un po' come succede adesso su Mastodon, no? Se siete su un server e avete dei follower, spostandovi su un altro server, ecco, vi portate con voi tutti i vostri follower. La stessa cosa dovrebbe succedere in futuro con Threads. Naturalmente questo ingresso di Threads nel Fediverso non è stato preso benissimo da tutta la community di Mastodon. Ci sono già diversi server che hanno bloccato la possibilità di seguire account Threads da Mastodon. Un po' perché naturalmente a livello etico c'è un po' di differenza tra la filosofia open di Mastodon e del Fediverso in generale e quella commerciale di Meta e di Threads. E un po' anche per questioni di performance e di sostenibilità. Se sapete come funziona Mastodon, quando volete far vedere dei post di un utente che magari sono reply a altri post o perché state seguendo qualcuno, ecco, il server su cui state deve scaricare i contenuti di questo account o di queste reply. E questi contenuti, essendo Threads un prodotto di Instagram, magari contengono delle foto, dei video. Ecco, questi sono contenuti pesanti che potrebbero andare a impattare sulle performance e sullo storage del vostro server Mastodon. Quindi anche per questo motivo tecnico potrebbe essere che molti server limiteranno o bloccheranno l'accesso a account di Threads. Ma proseguendo sempre sulla questione Fediverso, c'è un'altra news interessante che riguarda Flipboard. Non so se vi ricordate Flipboard perché è un prodotto che andava molto qualche anno fa, adesso probabilmente ha un po' perso trazione. Ecco, Flipboard è un aggregatore di news, mettiamola così, una app mobile ma anche desktop da cui potete seguire vari sorgenti di news e di informazioni con un'interfaccia che all'epoca era molto innovativa perché consentiva di appunto fare questa azione di flippare, quindi proprio di piegare la pagina per passare da una news all'altra continuamente. Era molto carina l'interfaccia, insomma. Adesso Flipboard, che da qualche anno insomma è un po' in crisi, ha perso molti utenti e anche la monetizzazione è complessa, comunque ha deciso questa nuova mossa, cioè di entrare nel Fediverso. Cioè sta iniziando ad aprire proprio la sua piattaforma al Fediverso, cioè a ActivityPub, cioè a renderla compatibile con ActivityPub. Il processo di federazione appunto seguirà tre fasi, lo potete leggere sul blog di Flipboard che sta su Medium. Ecco, ci saranno appunto tre fasi che dureranno da oggi fino ad aprile. Si inizierà con 27 editor che verranno federati appunto, che si potranno seguire dagli altri server ActivityPub e poi si procederà con gli altri. Sul blog trovate appunto tutta la lista degli editori che saranno compatibili con ActivityPub. Trovate The Verge, Fast Company, Medium, altri che sono su Flipboard. Naturalmente gli utenti di Flipboard potranno seguire contenuti dal Fediverso e viceversa, quando tutti saranno aperti, senza dover fare nulla di particolare. Insomma, sarà possibile fare un follow dall'app di Flipboard a utenti o account che stanno su altre istanze di Fediverso, di ActivityPub e sfruttando anche tutte le capacità di moderazione, di privacy, di blocco che vi aspettate dalla app di Flipboard, ecco, estese anche agli account del Fediverso. Insomma, notizie che fanno capire quanto il Fediverso stia crescendo. Poi si possono vedere in forma positiva e in forma negativa, no? l'ingresso di player commerciali in un universo che dovrebbe essere più che altro open e anticapitalista nella sua definizione di base, più che altro collegato al sharing di contenuti, non alla monetizzazione che invece è l'aspirazione principale di questi soggetti. Però insomma, è comunque segno di vitalità di un progetto hardware ed è interessante starlo a vedere. Prima di chiudere, come ormai il mio solito, un paio di link che vi consiglio. Il primo è un articolo che c'è su Il Post, si intitola Il Fediverso spiegato. E non è tanto per voi che mi state ascoltando, perché già so che conoscete tutto del Fediverso, non avete bisogno di un articolo, di una testata generalista che vi spieghi che cos'è. Ma ve lo segnalo, intanto perché è incredibilmente fatto bene. Cioè, sì, è una testata generalista, ma l'articolo è ben scritto, secondo me, spiega bene che cos'è Il Fediverso, anche per un tecnico, insomma, è interessante da leggere. Ma la cosa più interessante, secondo me, è far leggere questo post, questo articolo, anzi, su Il Post, a chi non è tecnico, non conosce bene Il Fediverso, non conosce bene Mastodon, non conosce Activity Pub, insomma, per fargli avere un po' una panoramica. Quindi, se gli linkate questo post, magari lo aiutate a comprendere un po' meglio che cos'è questo mondo. Quindi, ve lo ripeto, Il Fediverso spiegato lo trovate sul post. L'ultimo link, invece, che vi segnalo, è una guida al Prompt Engineering che sta sulle docs, appunto sulle guides di OpenAI. La trovate su platform.openai.com, sulla doc. Se cercate Prompt Engineering, trovate una pagina con delle strategie, ecco, di Prompt Engineering, appunto, di come creare dei prompt che siano formati opportunamente per poi avere le risposte che vi stiano più utili, appunto, da un chatbot come Chagpt. E l'ho trovato abbastanza interessante e utile, insomma, se volete perfezionare questa vostra capacità di avere risposte adeguate da un chatbot, insomma, quello che viene definito Prompt Engineering, qua, secondo me, trovate una buona guida. Quindi, ve la segnalo, poi non ci sarà mai. Ripeto, Prompt Engineering lo trovate su platform.openai.com Ed era tutto, grazie per avermi seguito. Vi ricordo che stasera, alle 18, c'è una puntata specialona, special di Natale. L'anno di Linux su desktop è stato il 2023. Non lo sappiamo, lo decreteremo stasera in live, ripeto, alle 18, con due mega ospiti, Riccardo Palombo e MorroLinux, canali di Continuous Delivery su YouTube e su Twitch. Seguiteci live, altrimenti da domani in podcast, insomma, fate quello che vi pare. Basta che seguite questa puntata che sarà frizzantissima. Noi invece, al Buongiornissimo, ci vediamo un prossimo giorno. E basta, fate bravi. Ciao!